Mi chiamo Fahim, ho 22 anni e anche se mi vedete un po' negro, in realtà sono italiano. Diciamo più una via di mezzo, tipo Cappuccino, 50% Bangla, 50% Italia e 100% Torpigna. È una specie di lavoro, una famiglia abbastanza normale, degli amici, manca solo una cosa. Esatto, proprio quello. Ma sta fischialla è... è proprio... cioè... Ma che ti sei preso? Grazie a tutti.